Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Roma si segnala un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 272 tra il bivio calo variante di Valico Baccheraia e Calenzano, un sesto fiorentino. Sulla FIPILI un chilometro di coda per un incidente avvenuto al chilometro 56 e 100 tra la deramazione per Pisa e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione Firenze. Sulla strada provinciale 15 Lucchese Romana, senso unico alternato per restringimento della carreggiata al chilometro 6 e 700 nel comune di Fucecchio fino al 5 settembre. Per la viabilità cittadina a Firenze in Viale Belfiore fino al 28 settembre chiuso il tratto compreso tra il numero civico 6 barra C e il numero 4 alla fine del controviale. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze, buon viaggio!